Comunque la classifica, Clemensen che vince questa prova di salto e sarà il primo a partire davanti a Tino Edelman Ovviamente può scorrere la classifica con tutti gli altri, per quanto riguarda gli italiani, ahimè, purtroppo Lucas Rungaldier non è andato particolarmente bene Vedete intanto Jason Lamisciapui, 1 minuto e 29 il suo ritardo, poi Michieli 35esimo, 2-0-1, il gap non è poco neanche per Giuseppe Però insomma vedremo oggi come va sugli sci stretti per quanto riguarda Lucas Rungaldier, 45esimo con 2 e 26 Ovviamente questo ricordiamo, a identificare da capire, lui è un buon fondista, ma chiuso quarto nell'ultimo appuntamento di Coppa del Mondo Oggi potrebbe tentare, giocarsi, provare quantomeno ad andare sul podio, Watabe con i suoi 30 secondi, anche lui uomo da poi, dalla mischia per un po' di gare A questo punto Krog era ritornato in realtà la settimana scorsa, è presente oggi con tutt'altra condizione e io mi aspetto, poi magari verrò smentito, però da Krog una buona gara Certo non a livello della vittoria di Cusamo o dell'altro secondo posto, però insomma può comunque tentare di giocarsela fino in fondo Outsider, beh insomma qui ce la possiamo giocare con Bernard Gruber Jan Schmidt partirà con 40 secondi di ritardo e direi che è in zona Gruber e Biller, quindi Gruber, Biller e 35 Dunque tutto è pronto per la partenza, Clemensen il primo norvegese, vediamo se ci sarà un altro norvegese oggi a siglare la vittoria E per la Norvegia sarebbe già stata a livello di atleti che hanno vinto, è stata la nazione dominante con 4 atleti suoi Poi la coppa ovviamente la vinta di Jason Lamy-Shapui Vediamo subito la partenza, chi parte e chi invece decide di non partire, soprattutto sono curioso di vedere Jason Lamy-Shapui con 1 minuto e 29 di ritardo Vedo Mikko Kokslin che partirà col pettorale numero 15, eccolo qua, si lancerà l'inseguimento subito dietro col pizzetto Avete riconosciuto Magnus Mohan, primo rilevamento sarà a 1,4 km Dopo la partenza, Jason Lamy-Shapui lo vedo là con il pettorale giallo di leader di Coppa del Mondo È la classica fascia in testa a proteggere la testa e le orecchie dal freddo Si prepara anche il, ormai possiamo dire quasi tre volte vincitore della Coppa del Mondo Due di sicuro e va per la terza, dietro di lui troviamo già pronto Ivan Panin Eccolo qua, Jason Lamy-Shapui, primo piano per il leader di Coppa del Mondo Andiamo a vedere subito il gruppo di testa con Tino Edelman che ha scavalcato Clemensen e Denifel Se gli è lasciati alle spalle, comunque i tre stanno viaggiando assieme Mentre si portano verso il primo rilevamento Dietro a loro dovremo avere, come abbiamo detto, partivano con un gap leggermente superiore Fletcher e Akito Watabe Un chilometro e quattro il trio di testa Tre minuti di gara A chiudere il trio è proprio Avard Clemensen Adesso vediamo il gruppo inseguitori Guidato da Brian Fletcher con Watabe Poi Krog, dietro Krog Bernard Gruber il trenino Quindi anche Christophe Biller Maxime Laert 12esima posizione Gruppo che ha dalla settima posizione Un 18 secondi di ritardo Quindi Fletcher e Watabe invece accusavano un ritardo di 16 secondi e 17 secondi Quindi qualche cosa hanno rosicchiato sulla testa Il gruppo Magnus-Mohan E ovviamente Mohan lì in mezzo ma a tirare è Mikko Kokslin Vedo dietro a tutto anche di Bjorn Kirschheisen Poi proprio Mohan E poi quella del francese dovrebbe essere Maxime Pardon dovrebbe essere François Brode Stavo dicendo Maxime Laert Laert in realtà è davanti François Brode Quando sono passati quattro minuti dall'inizio della gara Tedesco, tedesco, austriaco e norvegese Nelle prime tre posizioni Vediamo anche il passo che riesce a tenere Che prova a tenere Tino Edelman Neve piuttosto compatta oggi Quindi non quella di Libere Avevamo visto abbastanza morbida Abbastanza bagnata Insomma neve, quella che si può definire un po' la neve di fine stagione Quando iniziano a scaldarsi un po' troppo le temperature Vediamo anche, andiamo a dare un'occhiata dietro Se sono partiti tutti al momento Mi risultano tutti Una delle poche gare forse Salvo sorprese Però mi risulta che siano partiti tutti Gli atleti iscritti Andiamo al chilometro 4 A vedere anche la situazione Coxian, 58 secondi ha guadagnato Insieme a Kirschheisen e Magnus Mohan Mentre qui vediamo Tino Edelman Vanno a fare l'andatura Ovviamente Michazon Lamisciapui 1 minuto e 20 9 secondi guadagnati rispetto alla partenza Davanti a Mario Stechere e Beso Rinchi Vediamo anche in Casa Italia Giuseppe Michieli 38esimo 2.01 Il ritardo dell'Azzurro Quindi non ha guadagnato E ne è perso nulla Mentre Lucas Rungaldier 42esimo Al momento ha guadagnato da 2.26 Una decina di secondi 12 secondi Per l'esattezza Sul gruppo di Sulla partenza Ovviamente Edelman 5 Siamo al secondo intermedio Con Edelman Denifel Clemensen Watabe 16 secondi Quindi in questa breve frazione Non ha guadagnato Non ha perso nulla Il gruppo Rubzek Insieme a Watabe Berna Akito Watabe Berna Gruber Fletcher 17 secondi Krog 17.8 Se la sta giocando con Fletcher Poi Christoph Biller Jan Schmidt Yoshito Watabe Coxen 57 secondi Transitato anche lui Con Keith Scheisen E Stavo guardando Mohan Si è un po' distaccato Non vedo La miscia Pui A 1.13 Impressione Che si sia Perso Storlin E lì Magnus Mohan Non lo vedo transitare Stecker 22esimo E si Coxen Kishan Brod Poi Storlin Prenze Sherbot La croale La miscia Pui E Mohan Che Pare essere Saltato Terzo intermedio Qui ricordiamo Secondo intermedio Ai due chilometri E mezzo Vediamo intanto Tino Edelman Che ha provato A distaccarsi Ma dietro Sono già stati Recuperati Sia Denifel Sia Clemenzel Clemenzen Denifel Con Watabe Che si sta portando Dietro Krog Ruzek Anzi Dovrebbe essere Prima Ruzek E poi Krog Infatti Eccolo lì Ruzek Krog Gruber Poi Brian Fletcher Trenino Che si è Abbastanza Allungato In questo momento Lanciati tutti Ovviamente All'inseguimento Fletcher Vediamo Sono a 16 Secondi Di distacco C'è nel gruppo Anche Jan Schmitte Poi Il testa a testa Fra Denifel E Alvard Clemenzen Con Edelman Che in questo momento Sembra decisamente Averne di più rispetto Ai due Inseguitori E sta provando Andarsene via Bene anche Frenzel a 1.11 Insieme a Storlien E a Schellboten Jason La Misciapui 1.13 E lì Praticamente Con Il Tedesco Ha recuperato Anche lui Una Quindicina Di Secondi Attendo Attendiamo Di vedere Anche Il Passaggio Michelli 38esimo 2.03 Qualche cosa Ha guadagnato E Rungaldir Che è sulle cose Di Giuseppe Michelli A 2.6 Rispettivamente 38esimo E 39esimo 38esima E 39esima Posizione Tino Edelman 3.9 km L'ultimo intermedio Prima di Metà gara Con Edelman Ma dietro Guardate Si stanno scatenando Watabe Denifel Anzi Denifel Clemensen Watabe I attaccati Con Ruzek Poi Fletcher Gruber Schmidt Krog E Biller Gruppo Piuttosto Compatto Mentre Qui vediamo Il Francese Maxime Laert Che sta facendo I conti Con L'altro Watabe Yoshito Maxime Laert Che sta Transitando In Undicesima Posizione Con Yoshito Watabe Magnus Moana 55 Secondi Il Suo gap Non lo vedevo Prima Comunque Davanti A Cox In Poi Groback Cox In 16esima 57 secondi Groback Quindi Tre Norvegesi Quindi Storrien Rünanen Rünanen 19esimo La Mischa Pui A 1 E 15 Non ha guadagnato E' abbastanza costante Il passo Del Francese Lui E Steker Insieme Con Erik Frenzel E qua Il Gruppone Guidato Dal Giapponese Watabe Stiamo parlando Ovviamente Delle posizioni Che vanno A ridosso Dei Primi tre Vedete Watabe Poi abbiamo Fleischer Ruzek Quindi Ormai Sono stati Tutti Risucchiati Clemenzen E Wilhelm Denifel Per Andare a Prendere La Lepre Edelman Oggi Sembra Davvero Siamo Però Ancora Metagara Ci sono Ancora Cinque Kilometri Anzi Un po' Più Di Cinque Kilometri In realtà Da Disputare A metagara Sta arrivando Adesso Tino Edelman Ottimo Il suo Passo Solitario Ha staccato Fin dai primi Kilometri Si è levato Di torno Sia Denifel E sia Clemenzen Ma adesso Alle sue spalle Il pericolo È quello Giapponese Di Akito Watabe In realtà Non è il solo Perché siamo In un gruppo Di Una decina Di atleti Con Watabe E poi Abbiamo Fletcher Che tiene bene Il passo Ruzek Gruber Biler Krog Lotta Serrata Per La seconda posizione Ma attenzione A Magnus Mona Lì con Cox Stanno tenendo Un passo Sostenuto Anche il Gruppo Degli Inseguitori In questo momento Proprio guidato Da Magnus Mohan Con Kir Scheizen Quindi Laert Cox Lien Poi Grobac Siamo Nell'ordine Meno Di Un Minuto Di Distacco Per l'esattezza Sono A 28 Anzi Un bel po' Meno Di un minuto Siamo A una Trentina Di Secondi Di Distacco Per quanto Riguarda Il primo Gruppo Dei Seguitori Secondo Questo Che abbiamo Visto Con Mohan Kir Scheizen Laert E Cox Siamo A 50 Fra 55 E 52 Secondi Attendiamo Anche di Vedere La Miscia Pui 1 E 14 Suo Distacco Sempre con Specker E Frenzel Come Fedeli Scudieri Almeno In questo Momento Vediamo Fra poco Anche Le posizioni degli italiani Ricordiamo Siamo A Metà Gara Per La Maggior Parte Del Gruppo In realtà Poi Abbiamo Qui Vediamo Tino Edelman Che Se ne Sta Andando In Scioltezza All'intermedio Dei 6 Km E 4 Deve Ancora Arrivare Vediamo A questo Punto Quanto È Il Vantaggio Sul Gruppo Di Akito Watabe Ancora A fare L'andatura Però Vedono Jan Schmidt Piuttosto Pimpante Anche lui Sugli Scistretti Che sta Tenendo Molto Bene Dietro Brian Fletcher Grande Gara Anche Per Lo Stato Unitense Ma Dietro Guardate Sta Arrivando Anche Cox & Mohan E Compagnia Stanno Arrivando A Cercare Di Agganciare Questo Gruppo Siamo A Metà Gara Tutto Può Ancora Succedere Ovviamente L'Edelman Di Oggi Edelman Molto Tonico Sugli Scistretti Che può Provare Andare A Come Dire A fare Male Edelman Che quest'anno Ha già vinto La Gara Di Cusamo In realtà La seconda Gara Di Cusamo Poi È salito Sul Podio Con Due Terzi Posti In Altre Due Occasioni Potrebbe Mettere A segno Una Bella Doppietta Tedesca Dino Edelman E Andare A portarsi A casa Questo Successo L'attacco Intanto Sulla Salita Di Bernard Grube Con Watabe Che è Stato Scavalcato Proprio Dall'Austriaco E Adesso 6 Km E 4 Arriva Solitario Edelman Dopo Un quarto D'ora Di Gara 15 Minuti Espicci Per L'atleta Tedesco Mentre Dietro A fare L'andatura Vedo La tuta Dovrebbe Essere Stavo Cercando Di capire Forse Fletcher Con Un tedesco Vediamo Infatti È Fletcher Schmidt Norvegese Poi Grube Ruzek Watabe Clemens Ottava Posizione Gruppo Che transita Fra i 21 E 25 Secondi Di Ritardo Poi Un pochino Più Staccati Arrivano Anche Krog Biller Kirsteisen Kirsteisen Koksien Broda 44 Secondi Mohan 45 Secondi Dunque C'è stato Quando le immagini Non inquadravano Le telecamere Non inquadravano L'avvicendamento Con Koksien Che Ha preso Il Sopravvento Ha saltato Via Magnus Mohan Adesso è qua Che deve partire La progressione Di Miko Koksien Se vuole andare a beccare Il Quanto meno Il Podio Ricordiamo Ci avviciniamo Ecco Non è partito Jesi Skilainen Ovviamente Non ha finito In realtà Perché partire Sono partiti tutti Finlandese Che comunque partiva Già Dalle retrovie Con il Wave Time Tino Edelman Se ne sta Andando Ad assaggiare A provare Ad assaggiare Questo secondo Successo Della stagione La Miscia Pui Intanto Al 6 km E 4 Era A 1 minuto E 9 Non ha guadagnato Tantissimo Frenzel A 1 E 13 Vediamo anche Di vedere L'arrivo Oltre la Intorno alla Trentesima posizione Anzi di più Vedere L'arrivo Degli italiani Se stanno Provando A progredire A recuperare Posizioni Michieli 36esimo 2 e 0 7 Per Michieli Mentre Lucas Lungadier 27esimo A 2 minuti Ricordiamo Lungadier Che partiva Dalla 45esima Posizione Con un tempo Di 2 e 26 Quindi In Poco più Di metà Gara Ha guadagnato Una ventina Di secondi Tino Edelman Intanto 7 chilometri E mezzo Transita Solitario Qui siamo Su un Ottimo Fletcher Mi domando Fino a quanto Riesce a tenere Certo Dietro Ha dei compagni D'avventura Abbastanza Ostici Da Lasciarsi Alle spalle Da staccare Ruzzek Poi arriva Anche Jan Schmid In Quinta Posizione Quarta posizione Gruber Watabe Denifel Clemenzen Coxen E Kirchheisen Stanno tentando Di Riavvicinarsi Magnus Mohan Del gruppo Mi sembra quello In questo momento Un pochino Più affaticato Anche se Comunque Riesce a mantenere Il passo Di Coxen E compagni Siamo però Ancora Abbastanza Distanti Coxen 44 Secondi Da Ino Edelman Edelman che A questo punto Ha da gestire Negli ultimi Chilometri Un Una Ventina Di secondi Anzi Più di 20 secondi Sono 23 Secondi Con un ottimo Brian Fletch E poi Ruzek Schmidt Gruber Vedete E Akito Watabe Watabe dunque Che è In Sesta Posizione Allora Siamo sul Giro Finale Di fatto Dunque Ultimissime Battute Ci avviciniamo Agli 8 Km 9 Dietro Intanto Si intravede Brian Fletcher Non fatevi Inganare Dalla Prospettiva Sono Il Vantaggio Che ha Una Ventina Di secondi Brian Fletcher Con Ruzek Anche lui Parte Dalla Stagione Dove È In Ottima Forma Il Tedesco Poi Si intravede Gruber Quindi Jan Schmidt Akito Watabe Dietro I due Ex Leader Ovvero Clemensen E Denifel Più staccati Stanno arrivando Anche Kirchheisen Cox Mohan Nell'ordine Anche se Fanno un po' Fatica Per Riuscire Andare A Riprendere Il Gruppo Centrale E a questo Punto Sono I 17 Secondi Che si Sta Amministrando Tranquillamente Tino Edelman Che ormai Prova Ad assaporare Iniziare A gustare Questa Seconda Vittoria Della Stagione E Praticamente Uno Dei Suoi Migliori Risultati Meritato Peraltro Perché di Fatto Edelman Partito Subito All'attacco Andando A Gestire La gara Con Clemensen E Denifel E poi Quando ha capito Di averne Di più Ha staccato E ha scelto Di andare Non sembra Neanche Affaticato Tino Edelman 8 Km E 9 Questo È l'ultimo Intermedio Prima Del Traguardo Prima Dei È l'ultimo Di fatto Kilometro E 100 Metri Che li separa Dal Traguardo Jan Schmidt Seconda Posizione Ruzek Poi Fletcher Saltato In terza Posizione Watabe Gruber Quindi Kierscheiz Clemensen Kierscheiz Koksien Koksien A 21 Secondi Non so se ce la fanno a questo punto perché sono veramente tanti Anche per un atleta come Mikko Koksien Poi Mohan Brod Grobac Denifel In mezzo A 23 secondi Qui si è già Allungato Il trenino Degli inseguitori Dopo 21 minuti Di gara A questo punto si attende solo Il Traguardo La salita Con Edelman Che Sta iniziando ad accusare La fatica Jan Schmid L'ha praticamente ripreso Di colpo Ha avuto un Come definirlo Un cedimento Non c'è altra spiegazione Jan Schmid Che zito zito È stato nel gruppo Ha lanciato il suo attacco E adesso Edelman Deve provare A Non solo a Difendere A provare a Arrivare a secondo Ma anche a difendere La seconda posizione E praticamente È successo di tutto Negli ultimi Metri Con un Crollo Verticale Quando sembrava Ormai Volata Ormai Diretto Al successo Crollo Verticale Nell'ultimo Chilometro Possiamo dire Negli ultimi Due chilometri Di Tino Edelman Probabilmente Ha bruciato Tante energie Jan Schmid A questo punto Che si presenta Sulla Dirittura D'arrivo E anche per Jan Schmid Che vale un po' Il discorso Potrebbe arrivare La seconda vittoria Dopo Quella portata A casa In quella Di Ramsau In Austria Jan Schmid Qui vediamo Edelman Podio Podio Arriverà Certamente Non ci sono Da quel punto di vista Non ci sono problemi Bisogna vedere Se riesce a difendere La seconda posizione Da Ruzek Oppure Dovrà Oppure Dovrà Accontentarsi Del terzo posto Intanto La lotta Si gira A guardare Jan Schmid La situazione Con Schmid Che va A vincere E a questo punto Secondo posto Per Edelman Ruzek Peccato Per Tino Edelman Grande gara Ovviamente Di Jan Schmid Che è Praticamente Nell'ultimo giro Ha piazzato La stoccata Quarto Kirscheisen Poi Clemensen Fletcher Watabe Mohan Cox E nono A 18 secondi Partendo da Oltre un minuto Di Ritardo Dicevamo Il crollo Un po' verticale Nel finale Da parte di Tino Edelman Con una Progressione Sembrava neanche Tanto affaticato In realtà Edelman Ma probabilmente Proprio nell'ultimo giro Ha accusato Il colpo In effetti È partito Con Un discreto Passo Arriva anche Jason Lamine Chapuis Che è 16esimo Al Foto Qui siamo Al Foto Finish Chapuis Che ovviamente Domani Magari con un salto L'ultima Adesso si presenterà L'ultima gara Di Coppa del Movimento Intanto andiamo a vedere La volata Finale Con Watabe Storlien Poi Maxime Laert Jasmin Dunque Seconda vittoria Della stagione Ancora Un norvegese Norvegese Che ha dimostrato Di avere Una squadra In notevole Crescita Intanto vediamo La tuta Italiana Lucas Rungaldier Vediamo se riesce A spuntarla Su Miroslav Borac Per la 23esima Posizione Dietro Manuel Faest E comunque Solita gara Generosa Di Lucas Perché ricordiamo Partiva Dalla 45esima Posizione Michieli Trent Dovrebbe arrivare Siamo intorno Alla 35esima Posizione Dicevamo Lucas Che ha chiuso Fotofinish 23esimo Alle spalle Di Maxime Laerte Con un minuto E 19 Partiva Con due minuti Ha recuperato Più o meno Un minuto Lucas Rungaldier Ma ha contato Forse Qualche cosa Di meno Però insomma Da due minuti E 26 No Ha recuperato Un minuto Rungaldier Nella gara Di sci di fondo Michieli Quanto finish Per la 35esima Posizione Con Shelboten Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti